Non sono una storia che hanno toglie, sono un lavoro, sono un problema sociale, ci viviamo le donne di uomini, il Natale insolvuto, con sette insolvenza, costando niente regali, ci riprendiamo tutti, tutti i diritti e quotidianamente i governi, come il governo menti, provano a sottrarci, ci riprendiamo gli spazi, ci riprendiamo la mobilità, ci riprendiamo i diritti a sapere, ci riprendiamo con una scuola gratuita per tutti e per tutto, l'università gratuita per tutti e per tutto, forte allo sfruttamento, cuori per rileggerarti che tutti i giorni, secondi di lavoro, ci imprendiscono l'autorità della vista, cominciamo oggi a accattare il solvento, dall'albero, con la nostra risultata spalla di passare, diritto agli spazi, viviamo la città, vogliamo riaprire questa città a chi la vive, a chi quotidianamente produce la ricchezza sociale, Natale insolvente, perché l'insolvenza è la nostra pratica, il nostro diritto della vita migliore, quest'anno gli enti regali, ci riprendiamo tutti i diritti che provano a sottrarci, che ci hanno sottratto, la crisi non la vogliamo pagare, il debito crediamo, non la vogliamo pagare, perché ilbergato non c'è noi, dall'abbiamo contattato noi, tanta crisolvenza, prodottibile rispetto ai proczari, delle precarie, delle lavoratore, delle lavoratrici, delle lavoratrici, delle lavoratrici, delle lavoratrici, altre nemmeno bene, alche la paella, alla prima volta, come inoltre volerà, come inoltre inoltre cazzo a vanno la tratta. Grazie a tutti.